Musica Abbiamo riorganizzato la rete commerciale, abbiamo suddiviso il mondo in 11 aree, ognuna coperta da una filiale, nella quale opera personale locale. Abbiamo istituito 5 responsabili product line che insieme ai capi filiale definiscono linee strategiche a 3 anni. La nuova organizzazione delle funzioni commerciali ci consente di anticipare le esigenze dei clienti attraverso lo sviluppo delle gamme e dare una risposta più reattiva al mercato. Di garantire maggiore prossimità anche culturale ai clienti strategici e libertà di copertura del territorio da parte della filiale. Ci permette di cogliere più opportunità di business a livello globale. Grazie.